il primo smarrimento ti guardi e la prima cosa che ti viene è something went wrong, così poi realizzi e cominci ad essere un po' più uomo Uyari non ha da ira, hai capito no? e poi prendi il controllo send me the coordinates, devi essere cazzo, devi essere il capitano proprio nella terza frase diventi il capitano c'è, 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 c'è.